Sono veramente emozionato e orgoglioso che ho firmato con la Juve questa società gloriosa. Sono prontissimo, sono pronto a dare il massimo, a dare tutto il mio contributo per la squadra e per ottenere i grandi risultati. La scelta è stata facile, soprattutto perché penso che nella DNA della Juve è di combattere, di vincere, di non mollare mai, di andare fino alla fine e anche di soffrire quando c'è da soffrire. Ma penso che questo fa parte del mio carattere e della mia mentalità, per questo la scelta non è stata difficile. Sarà sicuramente un'emozione unica perché non ho ancora provato quelle sensazioni. Però devo trovarmi pronto, sarò pronto e se il mister deciderà debuterò. Però se mi sento come Haaland e Mbappé io sto cercando di avere un mio percorso. La maglia numero 7 sinceramente non rappresenta per me niente. Sicuramente tutti i numeri nella Juve sono importantissimi, però sinceramente l'avevo scelta perché era il più vicino alla 9.